Molto bene, anche oggi sembra una pazza! Benvenuti nella consuetta Books Review mensile, questa volta il 24 anziché il 25 perché domani ricorre l'anniversario del nostro canale e quindi ci sarà il Bookshelf Tour che seguirà per quattro giorni in quattro appuntamenti completamente diversi tra di loro. Vando alle ciance vi mostro subito il libro che ho deciso di portarvi oggi, ovvero La misura della felicità di Gabrielle Zevin uscito nel 2014 per Thea Edizioni, questo libro era nella mia libreria da tantissimo tempo, l'ho letto solo quest'anno ed è stata una delle letture che ho ottenuto più stelline su Goodreads, sul mio Goodreads personale, nel quale potete seguirmi cliccando qua sotto in descrizione. Di cosa parla questo libro? Questo libro è stato uno di quelli chiacchieratissimi dell'anno 2014 e successivi perché è veramente un libro bellissimo per gli amanti dei libri proprio, perché il protagonista di questa storia è un libraio diciamo non anziano quanto invece burbero quanto un anziano e questo libraio un giorno mentre sta facendo le sue faccende all'interno del suo negozio trova una bambina, una bambina di tipo due anni in mezzo ai libri per bambini con attaccato al collo, se non mi ricordo male, o al pupazzo un biglietto con scritto non posso più prendermi cura di lei, sono sicura che qua troverà quello che voglio per il suo futuro quindi una cultura e varie cose. Chiaramente poi la faccenda viene chiarita nel corso della storia ma quello che è più bello di questo libro è che tu percepisci delle sensazioni nette senza che esse vengano descritte a parole tra i personaggi, tra cui soprattutto la crescita del nostro protagonista che si trova così all'improvviso alle prese con l'allevare una bambina di due anni che gli stravolge la vita in positivo da che per la morte prematura della compagna lui non riusciva più a vivere bene e felicemente con l'arrivo di Maya, che è appunto questa nostra bimba lui riscopre la vita vera e propria e in tutto ciò c'è un bel farcire di libri, mica libri profumo di libri, profumo di libreria insomma tutte queste cose che a noi i lettori piacciono veramente tantissimo è una storia sconvolgente non è una di quelle storie leggerine da prendere così perché appunto è ricca di sentimenti è ricca di emozioni è ricca di coinvolgimento in generale da parte dello scrittore verso il lettore proprio perché è indirizzato a coloro che amano i libri profondamente che fanno dei libri, non dico una ragione di vita ma comunque una ragione di sfogo di amplificare le proprie emozioni di dare un senso anche alle proprie emozioni e quindi giustamente sendo indicato per questa fascia di persone che non sanno mai accontentarsi, lo sapete anche voi sconvolge perché comunque ti rendi conto a un certo punto della lettura che tu sei talmente immerso nella lettura talmente immerso nelle emozioni che essa narra da cercare di capire da dove arrivano e in realtà a esse arrivano da uno stile di scrittura molto molto bello e profondo soprattutto una cosa bellissima di questo romanzo è che indipendentemente dalla trama di base che vede un intreccio dei vari personaggi che noi conosciamo in questo oh, in questo c'è il gatto che mi sta arpionando che conosciamo in questo romanzo ogni personaggio è diverso ha una crescita personale e ha qualcosa da insegnare non necessariamente con tematiche che riguardano i libri ma anche tematiche appunto familiari, di crescita, di formazione e via dicendo quella che secondo me insegna più di tutti è il personaggio di Maya che sarà sorprendente perché inizia come una bambina qualunque ma con una smodata passione per i libri in maniera proprio naturale sarà il personaggio che a mio avviso insegnerà più di chiunque altro perché noi vedremo la sua crescita per quanto c'è un piccolo bug di sistema all'interno di questo libro che sono i salti temporali che a me personalmente non hanno dato grande fastidio ma so che a molti i salti temporali senza la spiegazione intermedia non fanno chissà quanto impazzire io non ci ho visto chissà quali buchi di trama in questi salti trovo che comunque il libro sia stato scorrevole nella crescita dei vari personaggi appunto riferendosi in gran parte ai tratti salienti appunto delle vite di queste persone di cui va a narrare Gabrielle però sicuramente da ognuno di loro c'è da apprendere c'è da imparare e ti insegnano qualcosa insomma io non voglio spoilerare perché questo è un libro che vale la pena di leggere quindi ci sono delle tematiche anche molto di fragilità ecco che ti insegnano ad affrontare alcune fragilità della vita a qualunque età tu arrivi ci sono comunque dei problemi che vanno affrontati e ti danno se non altro uno spunto per poterli affrontare sicuramente una delle parole chiave di questo romanzo è amore amore inteso come amore di coppia inteso come amore dal genitore al figlio e viceversa inteso come amore per i libri inteso come amore per la vita inteso come amore a 360 gradi insomma e tutto ciò tutto questo amore viene narrato con uno stile come dicevo molto 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 scorrevole ma non leggero nel senso non è scorrevole tipo il romanzetto rosa che ti racconta l'intreccio del personaggio la storia ad amore no è un stile scorrevole che tu leggi velocemente infatti io mi ricordo che questo libro l'avevo letto veramente in pochissimi giorni ma ti fa comunque entrare e questa è una cosa da non sottovalutare perché di solito quando lo stile è molto scorrevole tu vai a braccio vai a leggere tutto il libro velocemente ti perdi qualcosa comunque senti che manca qualcosa senti che è quella storia leggera che ti leggi al mare che ne so in momenti in cui sei tranquillo e invece lo stile di Gabrielle Zevin è molto bello perché pure se non scorrevole al pari dell'esempio che vi ho fatto risulta anche molto molto profondo e questa è una cosa bellissima che mi ha spinto a desiderare il successivo di questa collana tra l'altro fan fact io mi ricordo perfettamente chi mi ha regalato questo libro e direi che è l'ultima persona che se avesse pensato che libro era me l'avrebbe potuto regalare in conclusione un libro veramente veramente consigliatissimo che se non avete ancora letto dovete leggere se siete dei veri amanti di libri non ve ne pentirete è veramente adatto a tutti a coloro che amano le storie drammatiche a coloro che amano le storie di sui libri a coloro che amano comunque leggere ma senza andare troppo sul pesante a coloro che vogliono qualcosa che gli trasmetta delle vere emozioni questo è un libro veramente consigliato per voi che avete questo esigenzo ed ecco qua la mia books review del mese molto breve lo so però devo iniziare a registrare il bookshelf tour e ho delle cose da fare ed è il weekend e siamo sotto saggio e quindi non vogliatemene ma purtroppo non avevo troppissimo tempo da dedicare all'editing di questo video e quindi ho cercato di essere più sintetica possibile spero di non avervi fatto cosa sgradita nel caso mancasse qualcosa voleste discutere ulteriormente di questo libro di alcuni tratti volete sapere che cosa ne penso fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto se pensate che questo video possa interessare i vostri amici parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e tutto ciò che faccio sulla piattaforma iscrivetevi e cliccate sulla campanella noi ci vediamo come dicevo domani con il primo appuntamento del bookshelf tour che prevederà il riordino della mia libreria così vedrete come la metto a posto tutta bellina invece ovviamente la prossima vostra review ritorniamo al palisesto originale con il 25 giugno un bacione e ci vediamo alla prossima grazie a tutti